ciao allora salutamazzo ti ho portato qui, un tizio è buono da fare davanti la cantina ma mi sono un droide protocollare con 540 milioni di lingue nelle mie memorie ma mi hanno bisogno di più per la cantina, mi interessa o no ma mi sono come mi sbarattoli nel deserto, ho un sbagliastrale, è andato in derrutamata senti mi hanno bisogno di più per filtrare il ve e fare i mostri ma mi sono buono da filtrare il ve, per te e te dammi già una buona